Potrebbe arrivare a breve l'ok per l'approvazione definitiva dell'accordo di coesione, la firma tra governo e regione Campania, infatti attesa da tempo, quasi 6 miliardi di euro e fondi destinati alla Campania, ma bloccati per un anno proprio a causa della mancata firma dell'accordo, un fatto che è stato causa di una lunga querella tra governo e regione, tra il ministro per il Sud, il PNRR, la politica di coesione e gli affari europei Raffaele Fitto ed il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. Sollecitazioni su sollecitazioni, quelle arrivate negli ultimi mesi, proprio da De Luca che a più ripresi ha sottolineato come le risorse bloccate dal governo fossero indispensabili per progetti fondamentali per la Campania, dalle infrastrutture all'impiantistica sportiva ed era ancora poi fondamentale per il sostegno alla cultura. Ieri l'audizione del ministro Fitto alla Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale con l'annuncio di una nuova assegnazione per la regione Campania di oltre 2 miliardi di euro, dopo il miliardo e 8 già messo a disposizione della regione, soldi anticipati sull'assegnazione dei fondi di sviluppo e coesione 2021 e 2027, e destinati ai progetti di risanamento ambientale ed infrastrutturale di Bagnoli Coroglio, ai cantieri dei comuni che non avevano completato le opere della precedente programmazione ed ancora poi agli interventi per l'emergenza bradisismo di Pozzuoli. Oltre 2 miliardi, come detto, ancora per la Campania, soldi che sono destinati ad interventi di particolare rilevanza, ha sottolineato il ministro Raffaele Fitto. Sono infatti 81 i progetti per i quali quei fondi saranno messi a disposizione, progetti per la cui realizzazione proprio De Luca aveva spinto, interventi di pronta cantierabilità o di particolare complessità e rilevanza per il territorio, ancora sottolineato Fitto, per un'assegnazione di una quota dei parti dei fondi pari al 32% delle risorse, intanto da una parte e dall'altra si è pronti per l'ok definitivo all'accordo con la regione che sarà convocata nei prossimi giorni e che continua a spingere per predisporre nei tempi più brevi possibili la firma dell'accordo.